Tra le colonne dei portici del cortile interno della parrocchia di Santa Flavia sta prendendo forma l'allestimento del presepe vivente. Spicca già tra le strutture quella che ospiterà la natività e che sarà illuminata dalla stella cometa. Ci si appresta infatti a creare la location perfetta per ospitare gli antichi mestieri e la sacra famiglia con il coinvolgimento degli stessi parrocchiani. È stata un'iniziativa presa per coinvolgere i parrocchiani qui a Santa Flavia. Un presepe vivente che possa essere animato e partecipato dai volontari, dai fedeli volontari, coinvolgendo anche i ragazzi del catechismo e i ragazzi che hanno animato il GREST. Contiamo di aprire questo presepe vivente in quattro date, il 26 dicembre, il 30 dicembre, il 2 gennaio e il 6 gennaio con la visita dei Remaggi. Intanto l'8 dicembre, nel giorno in cui viene celebrata l'Immacolata Concezione, verranno accese le luci di un altro presepe presente in parrocchia. Un'opera di grandi dimensioni con personaggi in movimento, come i pescatori ad esempio che gettano la lenza nel realistico torrente. C'è stato gentilmente preparato dal signor Luigi Cordaro, che è uno dei nostri parrocchiani, che ci ricorda la venuta di nostro Signore Gesù Cristo, nelle condizioni dove è venuto, nella povertà, facendoci ricordare come per noi Gesù Cristo ha affrontato tante ma tante difficoltà. Si respira dunque un'atmosfera natalizia in parrocchia, in attesa del 24 dicembre. La notte della vigilia faremo la processione a quella terza natività che abbiamo all'inizio di Via Generale Cascino.